Sono Mileno Gabanello Quello che io conosco, Poca Petal Food Se è meglio l'aspirina o lo shi Ti fa più fatica a fare una gran sera che a fare l'amina di sci Perché se si potesse mangiare il sushi qua a patata sarebbe meglio premare Il culo all'indietro Ma quanti anni ha? 88 Ma quanti anni, quanti anni K, 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 K9 Sotto Major Sotto Major Ciao 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 Sì, mi rindo, sono? No, perché con voi sono rimasti così, sono male. No, perché con voi sono rimasti così, sono rimasti così, sono rimasti così, sono rimasti così.